Il coro di cos'è? Lo so, lo so! I quadretti? I quadretti? Il colore? Che colore? Il fumo di Londra. Ma che è? Andracidi! Andracidi! Chissà che colore fa la madre! Il tema, il tema! Con il cuore e con la menta! Con la mente! Una vocale! Andato! Smemorando, all'interno ci sono tutti i quadretti, quando le cecco non si sono mai. Chiaramente questo è il grigio a topo. Non si può trovare queste differenze. Allora, il mio tu no! La nuova smemoranda. Antrocite. Benvenuti al corso di lingue del professor Cataldo. Yes. Lezione numero uno. Lesson number one. La frase di oggi è la seguente. It is the seguent. Mamma, ho comprato la nuova smemoranda. The news forgotten. Prego, professore. Piero, Piero! Che cos'è questo? Ti faccio scattare il sangue dal naso! Mamma, è la nuova smemoranda! La nuova smemoranda di due soldi tu li butti così dalla finestra! Mamma, la nuova smemoranda c'è 90 autori! A te ti presta tua madre, hai capito? Non ti smemo! Tranquillo. Di qua? Hier! 28 Sì